Quest'anno sono 2385 le famiglie che si sono accostate ai centri d'ascolto, di cui pensate 677 sono nuove, questo è un dato di un aumento. Il dossier Caritas 2023, Stardessi e ripartire sempre, evidenzia un nuovo fenomeno che si fa a largo sul nostro territorio, quello della povertà minorile. Sono più le persone che entrano in povertà di quelle che escono e soprattutto questa povertà sta cominciando a colpire le famiglie giovani, le famiglie numerose, i giovani che fanno fatica a avere percorsi di autonomia, quindi pregiudica il futuro, non è solamente un fenomeno sociale, ma un fenomeno che si intreccia con la demografia va a pregiudicare anche il futuro del nostro paese con tutta la grande questione della denatalità. Sono 1504 i minori all'interno dei nuclei familiari. A questi si aggiungono 113 figli non conviventi e 706 figli maggiorenni conviventi. Tutti hanno difficoltà ad accedere ai bisogni primari. Altro fenomeno da monitorare è l'incremento di forme di disagio psichico. Si moltiplicano gli avvertimenti allarmati circa la situazione di adolescenti e giovani che nella pandemia hanno maturato forme di disagio psichico. Questo chiaramente va a aggravare la questione sociale. Avere alle spalle un percorso migratorio incide sul rischio di finire in povertà, spiegano da Caritas. A Lucca il 50% delle persone che hanno avuto accesso ai centri Caritas sono straniere. Di queste solo il 16% lavora, ma la loro occupazione non gli consente di provvedere ai bisogni primari per se stessi e per il proprio nucleo familiare.